Ragazzi ciao a tutti, grazie di cuore perché finalmente abbiamo raggiunto i 10.000 iscritti e finalmente ho partorito questa benedetta live su YouTube, quindi segnatevi questa data domenica 16 aprile alle ore 20 qui in diretta su YouTube. Inoltre segnatevi anche un'altra importante data, cioè sabato 15 aprile alle ore 14 inizierà il mio corso online di teoria in diretta su Zoom. Parlerò di tutti quegli argomenti pipponi dei quali non parlo qua su questi video di solito per mancanza di tempo, però parlerò nel dettaglio di tutte quelle cose che ci affliggono intervalli, trie, eccetera eccetera. Allora mi raccomando cercate di partecipare, il corso sarà completamente gratuito per tutti i miei allievi inoltre avranno l'accesso completo tutti i sottoscritti alla mia pagina Patreon quindi mi raccomando iscrivetevi e la prima lezione sarà accessibile a tutti i livelli di abbonamento quindi cos'altro dire ragazzi? Basta vi aspetto e ci vediamo, ci vediamo, ciao!